gabri costa è pronto per vincere la tredicesima reliquia di crash bandicoot 3 vai diamoci da fare non bisogna perdere tempo non dimenticate che crash bandicoot l'avevate nella ps1 nel 1998 ma ma adesso grazie alla playstation 4 c'è un bel remake capite questo crash bandicoot insane trilogy è uscito nel 2017 per la vostra ps4 e voi dovete battere le mani alla ps4 che l'ha rimasterizzato e più che altro che ha trovato la possibilità di fare un bel remake e di fare nuovi doppiaggi perché è incredibile ma è vero mi raccomando ditelo agli amici fate iscrivere anche loro però bisogna essere veloci perché io non posso aspettare troppo a lungo ma ora concentriamoci non perdiamo tempo a chiacchierare abbiamo belle già finito abbiamo vinto una bella reliquia di colore zaffiro se il video vi è piaciuto condividetelo mettete mi piace e iscrivetevi al canale siamo arrivati alla tredicesima reliquia di questo crash bandicoot 3 bene è tutto per oggi vi saluto